e allora benvenuti alla nuova canonica del salotto monogatari canonica francese snobbettina per la gioia di dario grifogliana detta anche grifogliana e oggi parliamo di due film francesi di due film con denis polidales secondo me è sbaglio podalides scusatemi che si vede sempre però non è mai stato così di punta come come di recente secondo me e sono l'esamur d'anaiss di charlene bourgeois tachè opera prima tra l'altro approfittiamo per un po di spamming presentato come anteprima del sicilia queer che sarà a fine maggio inizio giugno qualche settimana fa è uscita al cinema presentata la settimana della critica e parleremo anche di di can e parleremo anche di tromperi di arnaud de plescian o de plescian e anche questo can e anche questo francese anche questo denis polides allora iniziamo con l'esamur d'anaiss e dirò giusto un paio di parole no vabbè allora è una commedia francese con annais de mustier che è un'attrice che per me è molto misteriosa perché mi sembra sempre giovanissima ma io la vedo al cinema da dieci anni e lavora come una matta fa 6.000 film all'anno almeno io ho questa sensazione comunque ne ho visti parecchi molto bella molto brava e valeria bruni tedeschi e in realtà diciamo quando ho visto il film la prima volta e io mi aspettavo diciamo sì una commedia e forse non mi aspettavo che fosse costruita in questo modo nel senso che valeria bruni tedeschi attrice di punta del film compare tipo dopo tre quarti d'ora perché l'obiettivo del film è in realtà presentare annais presentare il ritmo della vita di annais e la carica grottesca del rotismo di annais e di come si rapporta al mondo annais c'è una serie di di tic tipo che non può prendere l'ascensore e una cosa con l'allarme di casa insomma una serie di 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 particolarità che la rendono un personaggio volutamente aneddotico ha fatto eccezione però per il fatto che quando incontra bruni tedeschi e il film procede verso il finale la commedia lascia lentamente lo spazio a un piccolo melodramma e di un di un amore impossibile potremmo dire apparentemente impossibile è lesbico fra loro due e che però deriva dalla dalla passione per cioè in qualche modo passa attraverso la letteratura la curiosità si incontrano in un festival in un piccolo festival nelle campagne francesi e diventa anche occasione per la regista di fare un pochino di romerate di chiacchiere in mezzo alla natura le frasche e diciamo lei riesce a intrufolarsi in questo festival e cosa che non ho detto la barriera bruni tedeschi che appunto scrittrice è la la moglie dell'amante denico dalides dell'amante di annais che invece occupa tutta la prima parte del film quindi passiamo anche da un amore eterosessuale un amore omosessuale e passiamo dall'uno all'altro con estrema freschezza e spontaneità nel senso tutto assolutamente su misura del modo in cui annais vive vive la sua vita quindi praticamente in qualche modo almeno sembra nella prima parte lasciandosi passare attraverso la maggior parte delle cose non avendo neanche troppa cura dei rapporti della sua casa delle sue cose e trovando alla fine magari invece una cosa per cui tenere un po di più e per la quale far cambiare anche il tenore del film quindi diciamo al netto del fatto che è una commedia francese diciamo super francese che non associerei mai alle commedie francesi più shock per dirne una che per me è caposaldo la famiglia Bellierde a cui hanno fatto coda che ha vinto l'oscar quest'anno il remake quindi quella è proprio la commedia francese da mainstream da grande pubblico questo è un tipo di commedia francese molto vecchio di per sé che diciamo può farsi forte di star più giovani anche se non è neanche troppo vero perché Potalides appunto lavora da un sacco però concettualmente abbastanza vecchio ma nonostante ciò comunque che funziona per come per questa particolarità di voler illudere di star facendo un ritratto aneddotico quasi da barzelletta di un personaggio invece farlo schiudere a poco a poco senza secondo me scadere neanche troppo nel sentimentale in altre facili trappole anzi diciamo il finale che è l'apice della parte melodrammatica del film è piuttosto delicato e piuttosto diciamo secondo me è anche attento a far credere che diciamo il razionalismo di Valeria Blu y Tedeschi potrebbe porre fine al loro rapporto e che invece questo rapporto potrebbe continuare in maniera assolutamente irrazionale come se la normale irrazionalità di Anais potesse anche riguardare questo aspetto della sua vita più serio più con qualcosa a cui tenere veramente è questo e quindi diciamo è un po' l'innamoramento di una giovane inoffensiva anarchica un pochino questo film e niente questo è un po' l'idea generale sì la cosa più interessante che avevi già detto all'inizio è proprio la freschezza anzi la leggerezza che si sente innanzitutto nella mano proprio registica ma si sente anche proprio nell'interpretazione di Anais una leggerezza che si potrebbe diciamo se uno leggesse la sceneggiatura senza guardare il film potrebbe associare questa leggerezza a una più banale superficialità per esempio la scena di lei che dichiara di essere incinta invece guardando il film proprio il tocco visivo e l'interpretazione danno a questa leggerezza una non so come dire una poeticità una commozione che le fa perdonare tutto Anais risulta essere fondamentalmente si è detto bene un'anarchica però un'anarchica sbampita ok non sbampita alla maniera di Amélie per intenderci che è una maniera abbastanza insopportabile sono uno dei detrattori più accaniti di quel film ma tutt'altro è un tipo di non so come dire di vivere sulle nuvole che nella quale in realtà il film ci fa sentire anche le conseguenze ok penso al primo litigio tra lei e l'amante o cose di questo genere insomma una serie di sequenze in cui non perdiamo la leggerezza di quello che fa Anais proprio anche nell'interpretazione però al contempo ci rendiamo conto di come reagisce il mondo intorno a lei non è un mondo surreale visto necessariamente dal suo punto di vista e questo lo trovo molto interessante nello scontro poi col personaggio più austero più razionale appunto di Valeria Bruni tedeschi è ancora più interessante perché lo scontro di questi due mondi invece che far scintille in qualche maniera dona un aspetto di dolcezza di serenità al film in chiusura che sono davvero molto singolari io l'ho trovato un film particolare proprio per questo motivo cioè c'erano tutte le premesse per fare a mio parere un mezzo pastrocchio non dico stile Amélie però anche stile e commedia francese che è molto divertente ma che ti lascia poco o in cui i personaggi sono un po' surreali ma senza un'autentica giustificazione narrativa però invece il tocco che c'è che è leggero ma al contempo non è irreale ok permette al film di entrare in una dimensione tutta particolare in cui fondamentalmente ne esci addolcito però senza aver così nascosto le parti amare della narrazione non so se mi sono spiegato bene perché sicuramente meglio di me perché io ho introdotto malissimo però no ma sai qual è il punto ecco poi vi lascio è che il film è molto è molto tattile non so come dire è difficile parlarne non è un film concettualmente complicato però ti dà tutta una serie di emozioni una serie di coinvolgimenti che poi è difficile riportare effettivamente non so se siete d'accordo però è questo un po' il punto sì io sono d'accordo ma secondo me anche un po' anche il tono del film e anche tutte queste cose che avete detto entrambi secondo me si notano fin dalla prima sequenza in cui la vediamo correre in giro salire le scale anche lei quindi un personaggio subito presentato in movimento abbastanza anche cioè con sotto anche una musica con questo piano tra l'altro mi pare che il musicista è italiano perché la produzione forse è tipo italo-francese mi pare che sia Nicola Piovani mi pare ti dirò è Nicola Piovani esattamente Piovani no a me è piaciuta molto l'accompagnamento sonoro in queste scene con questo pianoforte molto con un ritmo molto incalzante che va di pari passo con il ritmo incalzante della sua vita che lei continua a saltellare in giro per per luoghi l'università casa sua case di altri strade si passa da un luogo all'altro nel giro di due stacchi e e questa cosa un po' secondo me appunto trasmette quell'idea di leggerezza che però io ad esempio lei si è un po' svampita come avete detto voi però mi è sempre sembrata comunque molto cosciente del suo stile di vita da un certo punto di vista è sempre molto consapevole del modo in cui vive anche quando poi ne parla effettivamente con Valeria Bruni Tedeschi quando si trovano a cercare dei mi pare della carta all'interno di quella tenuta in cui si si fermano per il festival letterario o comunque qualcosa del genere e lì lei si mette un po' a raccontare del perché vive così del suo stile di vita e in effetti anche tutto il film aiuta cioè come è messo in scena è messo in scena il film aiuta a entrare molto in quello in questi suoi ritmi senza però appunto avete detto bene nascondere diciamo i lati oscuri perché comunque lei subito all'inizio la vediamo correre in giro ma perché ha un incontro con la proprietaria del suo appartamento con che con cui ha dei debiti perché non sta pagando l'affitto perché tipo non ha soldi e quindi subito nella prima nella prima scena ci viene anche detto questa cosa qua e quindi sì meno male sono d'accordo tra l'altro la cosa che è interessante è che nella parte finale quando quando di fatto scoppia effettivamente l'amore tra tra Anai e Valeria Bruni Tedeschi è interessante il fatto che il film fino a quel momento lì ha assunto il punto di vista diciamo di lei o comunque ha sempre seguito lei Anai e invece poi quella parte lì ci si alterna cioè nell'ultima parte ci si alterna con il punto di vista sia di Anai che di Valeria Bruni Tedeschi ho trovato interessante questo cambio non so se in positivo o in negativo ecco su questo sono un po' in dubbio io sinceramente io a sempre a proposito anche di queste cose volevo dilungarmi per poco però un attimo sulla referenza principale del film che come ho già detto è Romer in quanto romeriano e avendo fatto qui la monografia mi piace fare una postilla e cioè è come se il personaggio di Anaissa è un personaggio super romeriano ci sono ragazze di questo tipo nel film di Romer continuamente per dirne una la Beatrice Romane in Le Be Mariage Pascal Ogier nelle notti erano una piena ma anche un pochino Polini in Polina la Plage insomma sono tutti personaggi molto liberi però in controllo in qualche modo cioè è come se loro fanno sempre quello che vogliono poi magari cambiano idea poco dopo però comunque fanno sempre quello che vogliono sono volubili ma non sono diciamo fuori controllo e il punto è che vabbè non è un segreto che Romer sia diciamo maestro di queste cose è anche ispiratore di tutto questo tipo di cinema e la cosa che effettivamente fa notare la la leggera semplificazione della derivazione romeriana è proprio questo stacco in due parti cioè noi abbiamo dei personaggi che non sono realmente indagati dal punto di vista psicologico sono più componenti personaggi di un aneddoto di un proverbio sempre per usare parole molto romeriane ok quindi con delle caratteristiche che stanno fra il personaggio complesso e la macchietta stanno molto in quell'equilibrio lì però Romer con chiaramente gli artifici di trame con risvolti del destino particolari oppure diciamo eventi imprevedibili riesce a dare un peso specifico forte anche a un proverbio ok cioè riesce a a trovare la formula del diciamo della piccola favola umana in realtà molto pratica di questi personaggi e come dice Dario sono allo stesso tempo esperienze tattili quindi si vive in questo equilibrio fra l'idea di essere lì e di essere realmente presenti in quel posto e Anahis e anche Les Amurdaneis è molto basato su questo però allo stesso tempo è come se si volasse su un regime di racconto decisamente in qualche modo astratto e qual è il punto che questo tipo di derivazioni spesso non riescono tutte insieme a dare profondità e leggerezza cioè è la separazione di Les Amurdaneis che diventa appunto forte perché in qualche modo è imprevedibile che prenda una piega così seria e finisca in maniera così intensa in realtà le commedie romantiche le abbiamo sempre viste però magari commedie francesi di questo tipo che abbiano questi tagli graduali ma tutto sommato netti fra prima e seconda parte comunque possono essere particolari appassionanti però effettivamente è esattamente quello che Romero evitava quando riusciva fin dall'inizio a dare quel peso ai personaggi cioè in Romero tu senti contemporaneamente l'aspetto più svampito l'aspetto più volubile l'aspetto più anarchico e allo stesso tempo senti anche l'aspetto più profondo romantico con cui il personaggio stesso dibatte quindi forse quello che essendo fradicio di Romero ma è mancato nelle Samurdaneis è diciamo questo conflitto molto sullo statuto narrativo del personaggio è più netto il passaggio un po' più semplice diciamo un modo di scrittura per renderlo e per arrivarci dalla via più facile e diretta però resta il fatto comunque rispetto a tantissimi altri tentativi di emulazione romeriana questo sia un film particolarmente delicato in realtà poi c'è gli autori francesi che possono essere ispiratori se ne possono elencare tanti io ci ho particolare trovato Romero sì sono d'accordo cioè ma fin da subito mi è venuto da pensare a Romero ma c'è forse anche la scena quando va dalla madre che si smettono sdraiate nel giardino a prendere il sole che è molto romeriana si smettono a parlare di libri quindi esatto poi tra l'altro c'è anche quella componente di crudeltà dei rapporti che in Romero c'è sempre soprattutto nella prima parte rispetto a come Anaïs sia tra virgolette apparentemente superficiale e evidentemente crudele con le persone che la circondano proprio perché è volubile quindi sembra che ci tiene e poi non ci tiene più insomma ci sono un pochino di queste di queste componenti nel film e poi vengono come dire sono alleggerite sono leggerissime anche in Romero e quello è il punto solo che Romero riusciva a fare leggerezza e allo stesso tempo essere engaging anche emotivamente and that's all diciamo passerei a Tromperie di Arnaud Desplechant con Denis Spodalides e Lea Seydoux ma non dimentichiamoci c'è anche Emmanuel DeVoe che fra questi tre attori è l'attrice feticcio più utilizzata da Desplechant fin dagli anni 90 è l'adattamento di Deception di Philip Roth ed è ambientato in Inghilterra in particolare soprattutto ma non solo nello studio di scrittore del protagonista Philip che è americano in esodo in esodo sì vabbè in esilio comunque insomma vive in Inghilterra è stabilito in Inghilterra poi Dario ha letto pure il testo d'origine quindi in caso mi corregge su queste cose è tratta sostanzialmente in primis della storia d'amore fedifrago di Philip con il personaggio di Lea Seidou di cui non ricordo il nome in questo momento e diciamo del confronto continuo e della dialettica fra questi due personaggi su tantissimi temi e chiaramente anche sulla loro intimità e allo stesso tempo di altre storie parallele in particolare non solo i i soliloqui interiori di Philip e alcuni suoi alcuni suoi momenti immaginati tesi a rappresentare diciamo tematiche intere alla fine della letteratura di Roth in qualche modo ma anche ma anche il rapporto con una vecchia amante che rischia cioè è sul punto di sapere se ha un cancro o meno quindi è in ospedale di Emanuele De Vos che la vediamo sempre sotto questo fular e poi anche una storia con una studentessa e qual è il punto del film è che è anche il punto della maggior parte delle accuse che gli sono state rivolte da parte di tantissimi detrattori perché è un film che diciamo non solo è passato sotto traccia a Cannes perché è stato messo in una sezione collaterale non in concorso evidentemente perché è considerato film minore De Plecian che effettivamente non è non ci ha mai abituato a racconti così come dire di questo tipo De Plecian parla di intere cioè spesso sono film corali con tanti personaggi storie abbastanza sentimentali in effetti di recente anche dopo Ruben Ullumier che è il film precedente di De Plecian c'è la sensazione che stia sperimentando un po' che stia cercando di mettersi in altri panni il che è molto interessante De Plecian è un regista che è sempre stato molto affezionato ai suoi personaggi alle sue storie al suo modo di raccontare fa interi ritratti familiari invece qua entra in qualcosa di diverso e si capisce che la principale novità del film è che è tutto parlato ed è torno ai discorsi dei detrattori cioè è tutto è adattato da un testo che è fatto fondamentalmente di dialoghi quindi inevitabilmente è dialogato tantissimo e allo stesso tempo la cosa veramente forte è che non procede in maniera lineare ma soprattutto grazie a un montaggio che è uno delle cose più belle negli ultimi tempi visti al cinema è veramente un racconto che va a singhiozzi salta già fin dall'inizio ogni singola inquadratura è veramente non dico pirotecnica ma quasi perché cominciano a raccontarsi lei chiude gli occhi e racconta lo studio di lui e comincia a mostrare questi dettagli e c'è sta camera che svolazza va in giro è bellissimo e dopodiché prosegue per questi racconti a singhiozzi anche del rapporto con sua moglie evidentemente che sospetta a buon ragione che lui la tradisca e che abbia un amante e questo da un carattere assolutamente poco teatrale al film quello che avrebbe potuto essere facilmente cioè poteva sembrare facilmente una una pièce o comunque un dialogo raccontato in quel tipo c'è non sempre ma spesso anche una unità di luogo stiamo molto in questo studio poi in realtà a volte ci muoviamo il finale è in un altro posto ed è un finale splendido in realtà sembra molto procedere per quei toni profondi isterici e divertenti che sono anche la prosa di Roth anche molto tragici cioè c'è questo tipo di combinazione e De Plecian veramente dipinge col montaggio questo modo di raccontare le cose e di raccontare i personaggi mostrandone debolezze caratteri più enigmatici e quindi non procede linearmente è un film che sembra si debba soltanto ascoltare invece è da vedere ed è pieno di idee a partire dalla scena di sesso centrale nel film che è una cosa fantastica e quindi io veramente nonostante la quantità di concetti dentro il film l'ho vissuto in maniera molto sensoriale ed emotiva ed è stato veramente un viaggio enorme in pochi metri quadri in pratica per cui diciamo io l'ho vissuta così in maniera molto molto di questo tipo mi ha frastornato ecco ma il film non capisco le critiche ma lasciamo perdere davvero non raccogliamo di nuovo la sfida il film è straordinario sotto molti punti di vista Marco ha anticipato la cosa più importante cioè il montaggio perché la più importante perché è un modo perfetto per ritrarre per insomma adattare il tipo di dialoghi del romanzo di Philip Roth inganno è un romanzo che è fatto solo di dialoghi non ci sono neanche le descrizioni o i cambi di cioè tu devi indominare da solo chi è che sta parlando ok quindi è ancora meno intuitivo del teatro dove c'è accanto almeno il nome e tranne in quei rari momenti in cui semplicemente c'è scritto ride oppure no è sempre ride sorride ma proprio ne ho contati nell'intero libro forse 5-6 forse anche meno e in questo senso vorrei fare una serie di parallelismi non necessariamente con l'H i parallelismi sono due il primo è con Susanna Handler del quale abbiamo parlato pochissime puntate fa forse un paio di puntate fa sì due puntate fa due puntate fa grazie Ale perché il inganno di Roth è un po' la dico grossa ma ovviamente non starò qui ad andare per il sottile è un po' la versione rottiana di un romanzo della Duras nel senso che è quello che lo distacca da degli altri romanzi di Roth è appunto quello di essere così chiuso in un bugigattolo così durasiano nell'avere due cervelli uno maschile uno femminile che si contrastano e proprio per la struttura del testo quindi poche descrizioni in questo caso nessuna la Duran ne mette di più ma sempre in frasi molto breve molto brevi fitti dialoghi e degli spazi tra un capoverso e l'altro ad indicare un ellissi temporale oppure un momento di silenzio e di vuoto è molto simile certo ci sono grandissime differenze soprattutto nei temi e poi nel tipo di voci che ci sono in questo dialogo e soprattutto nei monologhi che ci sono qua e là in inganno mentre la Duras è molto poco monologante ma vabbè anche lei va a periodi questo per dire cosa per dire che sono due libri che sembrerebbero inganno e Susanna Andrer e la maggior parte della Duras essere perfetti per la trasposizione cinematografica quello che non riesce a Benoit Jaco riesce bene a Desplacino a Desplacen proprio perché è vero lui riprende anche qui pedisseguamente il testo come in Susanna Andrer il testo che però è non lineare o meglio il film è non lineare come diceva Marco anche il testo è non lineare ma il film non segue la non linearità del testo cioè ha una non linearità tutta sua per cui sposta gli episodi che già nel testo sono parecchio confusi quindi è pedisseguo ma non nella costruzione i dialoghi sono abbastanza fedeli ma ci sono delle piccole sfumature che non lo sono e che fanno un po' la differenza ci sono dei momenti in più nel film per esempio i momenti di Roth con la moglie l'unico che è presente nel libro è quello finale in cui lei dice a Roth insomma cambia il tuo personaggio non dire che sei tu nel romanzo ma attribuisci a Nathan Zuckerman o Zuckerman che per chi non lo sapesse l'alter ego solito di Roth era nei suoi romanzi e quindi quello che succede è appunto che il testo viene viene in realtà adattato a livello visivo cioè gli spazi le rotture dei capoversi non sono rese come avrebbe fatto la Duras con i suoi stessi libri con lunghi momenti di silenzio sono resi con degli stacchi repentini di montaggio per cui il film in realtà risulta più veloce del libro anche se il libro ha dei dialoghi molto serrati però mentre i dialoghi molto serrati del libro te li devi costruire tu nella mente Desplacine fa la cosa sensata di adattarli al cinema in modo che tu li percepisca in maniera serrata senza starli a immaginartelo per cui è proprio un manuale di come si traduce da una semiotica ad un'altra secondo me e questo è uno degli elementi che rende il film migliore l'altro parallelismo con l'H è con un altro film di cui abbiamo parlato di recente e cioè Between Two Words di Emmanuel Carrère perché qual è l'analogia in quel caso? anche in quel caso il testo di partenza è un romanzo che ha delle delle porzioni di verità anche se il romanzo di partenza dell'adattamento di Carrère si pretende più veritiero di quanto lo sia ovviamente inganno di Roth e anche lì il personaggio dell'autore o dell'autrice è appunto è sia autore che personaggio all'interno dell'opera però mentre e qual è il problema di questa cosa? che nei due libri ovviamente tu percepisci un lato metanarrativo che necessariamente col film si perde l'unico modo perché nel film si mantenga è che il regista entri nel film al posto dello scrittore però mentre in Between Two Words che pure a me era piaciuto ma aveva ragione comunque Marco nel finale della puntata c'è un certo distacco perché appunto la scrittrice è solo un personaggio tra i tanti non viene percepita questa cosa elemento invece personale che sicuramente nel romanzo era presente qui anche Desplacines fa la medesima operazione però rende molto più esplicita la presenza di Philip Roth cioè paradossalmente nel film si parla molto più di scrittura di quanto si faccia nel libro e qui comunque se ne parla e soprattutto mentre nel libro rimane l'ambiguità su chi sia Philip anche se è abbastanza chiaro che sia Roth visto che viene nominato anche Zuckerman nel film è tutto reso in maniera ancora più esplicita c'è anche la scena del processo in cui scena onirica in cui l'avvocato dell'accusa prende in mano un libro dell'autore per dimostrarne la misoginia e ovviamente il libro ha scritto sulla copertina grande Roth spero che non si stia sentendo il casino che stanno facendo qua sotto ma in ogni caso no no meno male per cui perché ho fatto queste due analogie per far vedere due modi completamente anzi tre in realtà modi completamente diversi di adattare e perché Tromperi di Desplassini riesce meglio degli altri due perché radicalizza la questione dello scrittore all'interno del film quindi ti fa percepire oltre alla riflessione sulla scrittura anche l'investimento personale di un autore all'interno della narrazione cosa che rimaneva più fredda e distaccata in Between Two Worlds nonostante sia il centro della carriera letteraria di Carrère quindi c'era questo paradosso e ti fa percepire meglio invece a livello di ritmo di montaggio gli stacchi gli importantissimi stacchi di dialogo che sono presenti sia nel romanzo della Dura che in quello di Roth rispetto invece al film di Benoit Jacó per cui questo per dire dell'adattamento ovviamente rispetto al libro cosa aggiunge in più il film aggiunge Lea Seydoux non ironicamente Lea Seydoux anche l'attore che interpreta Roth e ovviamente non pronuncio il nome per non fare figuracce dà una sua sfumatura particolare al personaggio però secondo me Desplacin si è concentrato molto su Lea Seydoux perché rispetto al libro sembra un personaggio molto più ironico ed energico e i dialoghi non vengono cambiati praticamente di una virgola quindi anche qui è la rappresentazione perfetta di come il cinema gestendo gli spazi e gestendo gli attori può dare un'interpretazione di un certo tipo a un libro altra cosa classica per chi legge il testo in questo caso il testo non contiene le esplicitazioni sui luoghi in cui sono i protagonisti si presuppone che siano luoghi reali Desplacin e molti di questi dialoghi invece li inscena in luoghi direi quasi rarefatti per cui ci sono molti momenti in cui la letterarietà del dialogo forse è questo e la critica che fanno molte persone ovviamente a torto neanche a dirlo la letterarietà del dialogo emerge particolarmente proprio perché c'è questa dimensione sospesa che c'è anche quando leggi il libro però il punto è che la letterarietà emerge in maniera cinematografica se permettete il paradosso cioè con un espediente visivo efficace e che tra l'altro dà una sfumatura particolare ai personaggi e anche gli stacchi tra un capitolo e l'altro hanno sempre dissolvenze o stacchi appunto differenti che danno una certa misura del tipo di rappresentazione alla quale stiamo assistendo cioè qualcosa che è al confine tra la verità e la finzione narrativa per dire che questo è un manuale di come si adatta un libro e anche di come si fa un film che è totalmente autonomo dal libro in realtà e del quale mantiene anche alcuni aspetti di letterarietà senza però privarsi della filmicità mettiamola così spero di essere stato chiaro anche questa volta Ale vuole dirci qualcosa anche non lo so tecnicamente sicuramente anche lui l'ha colpito il montaggio del film sì 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 ma in realtà non è che abbia molto da aggiungere rispetto a quello che avete detto voi io se voglio provare a fare ma in realtà non lo voglio fare però giusto per cercare di giustificare le critiche però che non condivido nemmeno io perché le posso condividere magari per un certo punto del film ma poi dopo perché da quello che ho capito è stato criticato come verboso come film e io potrei anche essere d'accordo ma per i primi 10-15 minuti poi a un certo punto è talmente talmente fluviale come film ti investe con tutti questi dialoghi ma soprattutto come avete detto voi con queste situazioni che continuano anche qua c'è un continuo saltellare di stacchi di spazi perché è vero che è ambientato per la maggior parte tutto in una stanza però in realtà molto spesso questa c'è salta anche a volte in altre stanze lo stesso dialogo viene proseguito in un'altra stanza per poi ritornare nella stanza principale oppure si sposta anche nei tempi c'è una scena che mi è piaciuta molto quando c'è il dialogo di Philip con il padre e che prosegue parallelamente con Lea Sidu nella stanza che tipo parla racconta diciamo quello che lui ha scritto prima a Lea Sidu poi e contemporaneamente prosegue il suo racconto anche al padre e quindi c'è questo continuo saltellare che è appunto come avete detto è anche disorientante da un certo punto di vista però non lo so è proprio coinvolgente non lo rende per nulla noioso e soprattutto non verboso cioè quella verbosità diventa anche un valore aggiunto quindi proprio non riesco a capirlo cioè non capisco la critica in sé per sé perché cioè è proprio il punto il lato il punto forte del film e in più anche questa cosa che gli stacchi molto spesso gli stacchi non sono in continuità nel senso che le battute vengono interrotte e l'attore anche cambia posizione si sposta in un altro in un altro punto della stanza e quindi questo probabilmente rende anche ancora più rare fatte le situazioni e quindi alimenta quello che dicevi tu prima Dario sul fatto che sono anche dialoghi anche da un certo punto di vista sognanti hanno anche un lato onirico che che si muovono anche tra realtà e finzione appunto già anche col finale che comunque non dà una 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 spiegazione definitiva alla vicenda i dialoghi sembra che stiano scusa Marco sembra che per concludere la frase di Ale sembra che siano scritti cioè sembra che siano rappresentati come se lui li stesse scrivendo in quel momento in alcuni casi questo è il lato interessante e la scena che tu hai detto quella del dialogo col padre è perfetta da questo punto di vista per confutare le critiche di verbosità nel senso che ovviamente nel libro questa scena è un semplice dialogo nel dialogo cioè c'è lui che racconta a lei di quando ha parlato col padre è abbastanza vertiginoso anche se ci sono passaggi più vertiginosi nel libro tipo quando loro devono recitare un dialogo a loro volte lui dà direzione a lei c'è un momento registico allora nel film cosa succede invece che lui racconta le cose che dice al padre con una certa foga quindi già questo dà una carica un ritmo particolare e alcune di queste frasi vengono ripetute perché le sentiamo sia nel momento in cui lui racconta e sia nei frammenti di flashback quando lui parla al padre allora in questo quindi praticamente Desplacine sta tratto da un romanzo ultra dialogato sta introducendo dei dialoghi ulteriori c'è un sovrappiù di parole cioè sta caricando ulteriormente il film e questo lungi da renderlo verboso in realtà proprio c'entra il punto cioè lo rende più cinematografico non so come dire il salto in realtà finzione tra l'altro penso è fondamentale in tutto il film alla fine considerando che c'è questa sequenza in cui lui deve giustificarsi con la moglie appunto e noi siamo veramente portati a credere che potremmo aver visto qualcosa di immaginato o appunto come ti ho detto ora scritto scritto in quel momento prodotto di una realtà comunque deformata cioè mi piace molto che abbia che questa cosa ci sia ti costringa a vedere il film a ritroso diciamo però allo stesso tempo non è invadente non è il punto fondamentale cioè evidentemente serve per andare oltre però effettivamente giustifica anche quella quell'atmosfera onirica che hai anche quando non sembrerebbe che sia necessaria per tutto tutta la parte di film precedente cioè la quasi totalità perché il dialogo con la con la moglie è verso la fine ed è splendido come come fa a finire il film cioè il questo dialogo che hanno loro a distanza di tempo è lei che esce dalla stanza e non c'è nessunissima enfasi nel finale cioè un taglio esattamente come gli altri è come se è una conclusione però allo stesso tempo non lo sembra fa parte un po' dell'enigma del film molto bello sì anche perché poi non cioè fortunatamente si conclude con quella scena lì piuttosto che con quella in cui lui si giustifica con la moglie perché appunto come dici tu prosegue quell'atmosfera che cede per tutto il film nel senso che appunto rimane inconcluso in un certo senso prosegue appunto l'atmosfera sognante l'atmosfera dell'atmosfera l'atmosfera l'atmosfera l'atmosfera